Salve, sono Gabriele Paolinelli dell'Università di Firenze, mi occupo di architettura del paesaggio e dal punto di vista della mia disciplina, oggi nella settimana della bioarchitettura della domotica, nella sessione che si è occupata della rigenerazione urbana, ho avuto un'interessante occasione di condividere con altri colleghi, sia nel pubblico che fra i relatori, alcune esperienze che l'architettura del paesaggio nel mondo sta portando nell'ambito di queste tematiche. Abbiamo visto, abbiamo discusso del fatto che vari approcci diversi sono interessanti da sperimentare, abbiamo visto che non sempre a interventi importanti di grande efficacia corrispondono grandi costi di realizzazione e di gestione e soprattutto per quanto mi riguarda l'accento è stato sul pensare che al grande tema della sostenibilità che sappiamo tutti ha insieme la dimensione ambientale, sociale e economica, non corrisponde una rinuncia agli obiettivi della bellezza e dell'espressività. Ho citato nella relazione una delle ultime interviste di uno dei più grandi teorici della sostenibilità in Italia, Enzo Tiezzi, nella quale concludeva dicendo come messaggio per l'interpretazione contemporanea della sostenibilità to be good, to be beautiful, invitandoci a tenere insieme queste due cose importanti. La sostenibilità non è un fatto meramente tecnologico, è un fatto di visione e per canto anche di questo la progettazione in architettura del paesaggio deve interessarsi e si sta interessando.